La pizza fritta è la nuova categoria di record tentata per la prima volta questa sera a Napoli e di già un nuovo record mondiale. Stabilito a Napoli un nuovo record, la pizza fritta più lunga del mondo, misura 7 metri e 15 centimetri, a raggiungere il Guinness World Record di 60 pizzaioli che hanno partecipato all'iniziativa organizzata dall'Associazione Pizzaioli Napoletani e da Rosso Pomodoro durante la filiera Tutto Pizza, ideata da Raffaele Biglietto e Sergio Micù. Il record è stato certificato dal giudice ufficiale del Guinness, Lucia Sinigaglia, un'impresa per la quale è stata appositamente realizzata una friggitrice di 7 metri e mezzo. Per compierla sono stati utilizzati 1.500 litri d'olio, 123,5 kg di impasto per circa 83 kg di farina doppio zero, 50 kg di fior di latte, 15 kg di ricotta, 7 kg di pomodoro pelato, 15 kg di ciccioli, basilico e pepe. L'iniziativa promossa dall'Associazione Pizzaioli Napoletani chiude la tre giorni di Tutto Pizza, a cui è preso parte anche il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, soddisfatto per il movimento Pizza a Napoli e nel mondo. Vedo tanta energia, sempre più stand, pizzaioli, ma anche tutto ciò che attiene alle materie prime, alla formazione, alla valorizzazione della tradizione, ma anche a guardare avanti con la creatività. Quindi questo significa economia, non è solo la tradizione della pizza, ma significa economia, lavoro e mi fa piacere vedere anche sempre tanti giovani.